Educare gli allievi alla consapevolezza sui cambiamenti climatici, insegnare le materie scientifiche e umanistiche in un mondo che cambia sempre più velocemente, presentare agli allievi i principi della green economy o spiegare la chimica utilizzando i mattoncini Lego. Sono alcuni dei circa 70 corsi che il CESEDI, il Centro per i Servizi Didattici della Città Metropolitana di Torino, ha inserito nel suo catalogo formativo per gli insegnanti delle scuole piemontesi. Nato all'inizio degli anni 80, il CESEDI svolge attività di formazione sia del personale docente che degli allievi, riconosciute dall'Ufficio Scolastico Regionale e dalla Regione Piemonte. Diciamo che il lavoro importante che viene fatto qui al CESEDI è proprio di relazione con le scuole. Noi partiamo dalle esigenze delle scuole, quindi sentiamo le scuole Polo, sentiamo le scuole e cerchiamo di costruire una formazione apposita, proprio per quelle che sono le esigenze delle insegnanti e delle scuole. E questo secondo me è il segreto, avere un rapporto continuo con il territorio e con le istituzioni scolastiche, dove l'insegnante si sente a casa in un certo senso, ma soprattutto è sicuro di avere una formazione di qualità per cui poi le proprie competenze le può spendere con gli studenti. Perché ricordiamo che gli studenti sono il centro, l'obiettivo della scuola, dell'istituzione scolastica e la loro crescita è la cosa fondamentale per tutti noi. L'ambizione ora è di ottenere l'accreditamento presso il Ministero dell'Istituzione e dell'Università. A questo scopo è stata invitata a visitare il CESEDI la sottosegretaria all'istituzione Lucia Azzolina. Allora io adesso mi impegnerò in prima persona tramite i miei collaboratori al MIUR affinché il CESEDI venga conosciuto al MIUR, perché non è detto che questo sia già così, affinché le buone pratiche del CESEDI, così come di altre realtà simili al CESEDI, possano diventare sistema. Perché l'obiettivo che abbiamo al Ministero dell'Istruzione sulla formazione dei docenti e fare in modo che la formazione avvenga tra docenti, un peer-to-peer tra docenti, affinché non siano le solite lezioni calate dall'alto e il docente si senta coproduttore della formazione in se stessa. Quindi provare ad esportare l'esperienza del CESEDI anche in altre realtà e sistematizzarle.